Onorevole Borghi, un appuntamento importante questa sera qui a Vogogna, si parla di autonomia, si parla di specificità montana, un traguardo raggiunto da poco. Un traguardo raggiunto da poco che va strutturato, va sostanziato, deve essere tradotto all'interno di una realtà economica finanziaria oggettivamente complessa che non può diventare l'alibi per non fare nulla o per lasciare le leggi sulla carta. Al contrario, questo è lo stimolo con il quale riuscire a incidere profondamente da un punto di vista della capacità amministrativa per consentire a questi territori di essere protagonisti nel quadro di una profonda trasformazione nel nostro paese. Si parla di ridurre il numero delle regioni, si parla di attribuire nuove competenze a un numero limitato di enti locali che si devono accorpare. Le province montane sotto questo profilo sono l'occasione con la quale noi possiamo giocare un nuovo protagonismo dei nostri territori. Anche per questo la cosa importante che scaturisce da questa sera è la disponibilità della Presidenza del Consiglio attraverso uno specifico protocollo che farà con questa provincia di accompagnare, fornendo assistenza, gli enti locali del territorio per fare in modo che non vengano abbandonati e lasciati soli dentro questo complesso ma indispensabile momento di riforma. Da anni Lossola sta inseguendo una certa autonomia e da anni si parla di autonomia provincia autonoma, si parla poi di specificità montana come in questo caso che è stata raggiunta oppure anche di zona franca ma per i non addetti ai lavori quali sono le differenze? Le differenze sono profonde. Una provincia autonoma è una provincia come Trento e Belluno e Bolzano dotata di autonomia legislativa in forza di trattati internazionali e non è il nostro caso. Anzi, noi sosteniamo che questo tipo di soluzioni debbano essere riviste, riaggiornate perché non ha più senso province autonome che addirittura hanno un gettito fiscale superiore rispetto alla loro capacità di produzione. Le zone franche sono cose che vanno in via di estinzione sull'intero territorio europeo perché contrastano il principio della concorrenza, in una zona franca non si pagano le tasse sostanzialmente. Questo tipo di provincia autonoma è una realtà in cui c'è un'autonomia amministrativa da cui deve corrispondere, da qui l'esigenza del dibattito, un trasferimento di competenze e di funzioni peculiari rispetto alle caratteristiche dei territori. È una cosa nuova che dobbiamo scrivere ed è una pagina, credo, interessante da sfogliare. Per concludere proprio, uno dei temi sempre cari all'ossola è quello della sanità. Secondo lei, con questa specificità montana, ci sarà la possibilità di ottenere di più, tra virgolette? La specificità è la prerogativa attraverso la quale noi esprimiamo una nostra soggettività e quindi esprimiamo una nostra capacità di rappresentare chi siamo e che cosa abbiamo bisogno su tutti i versanti, ivi compreso il tema della sanità. Se noi abbiamo una nostra soggettività, se noi capiamo che dobbiamo riorganizzare un territorio in funzione di questi bisogni, siamo anche in grado di evitare che la logica dei cosiddetti tagli orizzontali pialli le opportunità. È la precondizione questa per avere voce in capitolo, cosa che non ci sarebbe stata se invece ci fosse stata quella famosa provincia di Quadrante in cui noi saremmo annegati tra Vercelli, Novara e Biella e in cui evidentemente non avremmo avuto neppure più qualcuno che sostiene i nostri diritti.